Allora, sono qui, sono stata portata da Vicky Schatzinger, la mia amica pianista, musicista, a parlare, a chiacchere, a fare una chiacchierata con Barbara di 12 e mezza per raccontarci attraverso il cibo, nel senso che poi uno dà scontato anche che la propria vita sia uguale agli altro, che proprio mangiare sia uguale alla vita degli altri, poi in realtà invece scopri che ognuno ha una gestione del vivere, di rapportarsi al cibo in maniera diversa. Diciamo che ci sono un po' di curiosità intorno alla nostra vita, intorno al cibo. È la prima volta che sono qui a Omi, gigantesca, enorme, mi sembra che stia funzionando molto bene perché il parcheggio è pieno. Ciao! 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 Grazie a tutti.